Bentornati amici qui su Pokévision Ita Allora, mentre la situazione del mondo fuori è più o meno questa Noi oggi siamo qui per giocare a Pokémon gioco di carte collezionabili online Sì ragazzi, perché mi stavo annoiando a morte E dico quale migliore occasione se non farmi una bella partita E intanto registrare il gameplay da portare a voi Quindi direi che senza star perdere troppo tempo Possiamo andare a cercare il nostro avversario di oggi Ok, allora dunque siamo qui Andiamo su sfida giocatore Faremo un video molto molto fresco ragazzi Un video molto molto così Una partitella tra amici Come è giusto che sia Allora il mazzo useremo sempre il nostro mazzo YouTube Ormai è diventato un emblema del canale questo mazzo ragazzi Ma giuro 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 che ve ne porterò altri Vi porterò altri tipi di mazzo Ok, intanto approfitto prima che inizi il match Per ricordarvi un appuntamento importante Ovvero giovedì 10 novembre Su questo canale uscirà un Real Pack Opening Molto interessante Dove io regalerò i codici a voi Ragazzi, ebbene sì, regalerò dei codici da portare Da regalarvi E che potrete tranquillamente riscattare Sul gioco online Allora Vi spiegherò meglio magari a fine video Intanto iniziamo la partita Direi di sì Iniziamo noi E vediamo quello che accade Allora è meglio che non mi avvicino troppo Se no se vede quanto so brutto Quindi cerco di rimanere a un'altezza mediocre Oh, attenzione ragazzi Che prima mano Che prima mano fantastica Prima mano fantastica ragazzi Succede una volta su cento Di pesca subito Mewtwo X E Mega Mewtwo ragazzi Allora Beh, io direi che sì Sarà lui il nostro Pokemon attivo Assolutamente sì Possiamo anche Chiudere qui il nostro turno Intanto ragazzi Vi chiedo perdono Se magari la qualità va un po' a scatti Ma vi giuro che sto diventando matto Per cercare di risolvere questo problema Per migliorare la qualità Degli FPS Sul mio canale Ok Intanto pompiamo Subito Mewtwo X Subito Mewtwo X Lui intanto ci ha messo giù un Pikachu Un Pikachu Vediamo un pochettino che succede Oh, schiaffa qualcosa in panchina Ragazzi abbiamo già vinto il primo match della serata Incredibile Incredibile Vediamo un po' Ah, level Niente Non abbiamo vinto Quindi adesso Lui cimai ci farà un culo così adesso Solo perché ho detto che Vincevamo noi il match Quindi figurati Vediamo un po' Dai Evolve Farà un'evoluzione Farà un'evoluzione Molto probabilmente Ok Vediamo Colpo coda Attenzione Gli riesce anche colpo coda È il mio turno Colpo coda Non ricordo che fa Se la scena durante il prossimo intervento Non può attaccare Pezzo di merda Tu sei solo un pezzo di merda Oppure Potresti aver fatto la mia fortuna Non posso attaccare Quindi quale migliore occasione Per mega evolvere ragazzi E noi mega evolviamo Tranquillamente Senza scrupolo Proprio senza scrupolo alcuno Proprio Roba da far accapponare la pelle Ah, vai con Rai Ci vai vai Pompa 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 Maledetto Pompa Vediamo un po' Cosa fai? Schioppo di tuono E pesca fino ad avere Sei carte in mano Pensavo attaccassi onestamente Con schioppo Di tuono Questi 50 anni C'è scende Poca molenza Se il tuo avversario Ah, sei un bastardo Comunque Sei veramente Un bastardone Allora Vabbè Ma che cazzo Ma che ce ne frega Dai Famo I Questi due danni Proprio leggeri 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 220 Baci Saluto a casa Saluto a casa Faccio In sto domando C'è una cartolina Eh no Stavo di mangiare Una lettera Non ho preso La lettera del prof Ragazzi Magie strane Su sto canale Accadono Allora Che si inventa? Cosa si inventerà mai? Non so Io al posto suo Me ne ero già andato Vi dico La sincera verità Avrei Chiuso tutto E me ne sarei andato a letto No scherzi a parte Però Probabilmente Mi sarei già ritirato Perché non è una situazione Proprio favoribile A meno che magari Manno a qualcosa Di clamoroso Ma Dal tempo che ci sta a mente Non credo Non credo Ok Farò un altro Raichu A sto punto Ma senza energia Senza mia Sta solo a perdere tempo Sta solamente perdendo tempo Sta cercando di Ah bello questo Raichu Ragazzi Prima serie Bellissimo 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 Me lo ricordo Eh infatti Abbiamo vinto Non poteva fare Altrimenti ragazzi Perché Siamo troppo forti Che doveva fare? Niente L'unica è ritirarsi E salutarci Ciao 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 Ok Va bene Va bene così Abbiamo vinto 25 monete E abbiamo vinto Il primo match Della serata 70 Così subito Buono Molto buono Molto buono Allora Allora Diciamo Potremmo fare un altro match Visto che questo è durato Meno di 5 minuti Perché no Dai Dai Facciamo un'altra partita Ragazzi Facciamo un altro match Allora Mi riallaccio al discorso Del giveaway Che avverrà in questo canale Giovedì E Ragazzi Sarà Una vera e propria serie Ok Non sarà un evento A sé Giovedì Nasce E Andrà avanti Non so con quale frequenza Perché non posso sapere Con quale frequenza Potrò portare questa serie Ma la porterò ragazzi L'unica differenza È che Essendo la prima puntata Giovedì Farò un real pack opening Perché comunque È anche Bello da vedere Dopodiché Ragazzi Sarà solamente Un regalare codici Per il gioco online E quindi Vi conferirò codici Direttamente Per l'online Ok Quindi magari Ogni tanto faremo comunque Un real pack opening Perché non ce lo vieta nessuno Ma Diciamo È un po' Uno speciale Prima puntata Tutto qua Ok Spero che l'idea vi piaccia E che possiate apprezzare Appunto Lo sforzo Mio Nel portarvi codici Lo faccio ragazzi Perché su youtube Non lo fa nessuno Quindi se non ci pensa olimpico Non ci pensa nessuno E sono molto contento Di portarlo Allora Comunque La partita è iniziata E non abbiamo pescato un cazzo Appunto Cioè Quella combinazione di prima Ragazzi Avviene una volta su 100 Guarda Niente Mi tocca pure scartare Un mega youtube E rimetterlo nel marzo Sfortuna Poi la cosa bella Che nel marzo Ho messo anche due youtube Della prima Della prima edizione Uscita appunto Poi con l'espansione Questa qua Evoluzione Mai pescato Mai visto È andato perso Broccheranno A chi l'ha visto Vabbè No Questi stanno A far pescare Eccolo L'ha chiamato Va L'ho chiamato Almeno Almeno Qualcosa Guarda Dica A parte che un po' di niente Di socializzate Sul portamazzo Manco per sbaglio Dai che Ti ho fatto pescare 50 carte Che cazzo vuoi Non mi fa perdere tempo Dai Su Vabbè Comunque è un mazzo psico Quindi È un'arma a doppio taglio Per entrambi Perché tutti e due Abbiamo la debolezza Vediamo un po' Che succede Dai 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 Quindi la crappesca Subito Tre carte Comor Sperando che Possa uscire Un youtube ex Comunque la gara Fa un freddo boia Io non so da voi Dove abitate Che fatemi Qui Se gela Stiamo al I primi di novembre A gennaio Non ci arriviamo Non ci si arriva Vabbè Vediamo un po' Vediamo un po' Che palle Stoce Due ore per fare una mossa Oh Oh Allora Vai Comor Subito Mi servono carte Fa il bravo Eccolo qua Un bel mio tuo Non è quello che mi serviva Però Dai Non si può aver tutto nella vita Allora Questo è ora quello che Si cobrucia Che comunque è un 120 Che non fa a me male E non condivide esperienze No Non so che fa Non so che fa Perché questo dal prossimo Ma si facciamo così Dai Tanto Stavate Sta già a prendere Una brutta piega No Quello che ho visto Perché ma lontano Che ho visto Un vicino a telecamera È una cosa mostruosa Vedo che mette il bollino Vietate i minori Dai Oh Niente Stai attesa Il terminal Di proprio Stracciano Confuso Perfetto Contento così Bene Molto bene Dai Sì sì Un'altra mossa La vogliamo fare Dai Dai Fanni un'altra Dai Vabbè ragazzi Mi faccio un sonnellino Quando ha fatto Fatemi un fischio Ma dai Già fatto Wow Vai Comor Fammi pescare bene Dai 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 Grande Comor Dai Grande Comor Grande Comor Grande Comor Allora A sto punto Direi che Quasi indispensabile Mettere anche questa Stavo perdendo la voce Mi è successo 6-7 volte Un'ambra antica Di erotacti Ragazzi io sta carta me la scordo sempre Togli dal mare Lasciatemelo scritto nei commenti Togli sta cazzo di carta Togli questa merda di carta Io me lo ricordo e la tolgo Oh Allora Qui un'altra carta inutile Vabbè Passiamo il turno Non possiamo fare molto 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 Vediamo un po' Vediamo un po' Ah Lui è arrivata a Gengar Eh ragazzi Sta partita Se sta a metto Molto male Molto molto male Questa non la vinciamo Tonico Contivo Che fa? Porterà Guarda Guarda O magari Un Mega Guarda 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 Cominciano ad essere Uccelli per diabetici Ragazzi Cazzi amari Veramente cazzi amari Eh niente Ah Vedi Buono Tonico evolutivo Color Nostra ultima speranza Allora Intanto una valle dimensionale E questo Che comunque Possiamo farvi Un po' Di danno Possiamo farvi Un pochettino di danno Peccato che non abbia La debolezza Perché sennò Mi si metteva Molto molto male Allora Vecchia caro Mi tu Dai Il problema È che noi siamo Confusi Quindi dovremmo Scurare Per attaccare E noi non scuriamo È scientifico Noi non si scura Inutile Non c'è mai Una botta di culo Capito? Mai Mortasci tua Dai 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 Mi sto vedendo Scazzando Ma ci sbraga Un panca E ciao Alla partita Che poi Il vero problema Che non so neanche Che strategia Adottare Vediamo un po' Forse gioco Il tonico evolutivo Forse Vediamo un po' Lui vanno in campo Gengar Vanno in campo Gengar Bello ragazzi Gengar Stavo a pensare Forse potrei farlo Un mazzo spettro Con Gengar Potrei anche portarlo Ah vedi 130 Tolto subito Così D'ample Vabbè Mi sembra Quello giusto Perché no Perché no Che c'era C'era Ma C'era Puttana Che dire No No Ragazzi Mi sei buggato il mouse Non mi ha fatto usare la carta No Ma no Ma no Ma no Che basta No Ragazzi No Che figura di merda Ragazzi Sta partendo Vi tiriamo su Manco Con Manco Con Con Cazzo Però Non arriviamo Non arriviamo Ciao Che mi ha fatto una sinaccia Ragazzi Brutta Brutta Parecchio Che tementi Un bacio Vittoria Cos'era Ah ok Ammazza questo Che mazzo Che ha tirato fuori Am Vedi Eh Non ce sa Mamma mia Fa finire Stagodino Purtroppo Siamo partiti Ma dall'inizio Ragazzi Non abbiamo pescato Un cazzo Abbiamo uscito Subito Un vantaggio Un vantaggio Netto Tre carte In più Può significare Tanto Può fare La differenza Non voglio Stare a cerca Scuse Perché Lui è molto più Ammazzo Molto più Forte del mio E si è visto Gli ha girato A meraviglia E quando gira Ammazzo Raramente È tutta fortuna Ci vuole anche L'abilità Nel farlo Comunque Ci siamo E noi Non ci arrendiamo E Le proviamo Tutte Anche se In realtà C'è poco Da provare Possiamo Forse Perché no La metto giù Pure io Insomma Pesca un'altra Carta di energia Giusto per non Arrendermi Se fosse entrata Quella Cazzo Detonico Evolutivo Ma Non capisco Perché mi ha fatto Così Non mi è mai Capitato Non mi è mai Successo Sono contento Che mi sia Successo In diretta A me Non l'avete Visto Pure voi Mai da niente Con una fotonica Giusto così Tanto ormai Abbiamo perso Abbiamo fatto La figura C'è La figo Vabbè Oh Quei l'abbiamo persa Ragazzi Però Quello prima Abbiamo vinto Un meno Dei cinque minuti Se vince Si perde Questa è vero del culo Perché Fosse entrato Il tonico evolutivo Potevamo parlare D'un altro match Però Vabbè Ci sta Ci sta Non si può Sempre vincere D'altronde La vita è fatta così C'è avuto un momento Molto poetico Vero Esatto C'è avuto un momento Di poesia Suprema Allora Vabbè Lui ho rimesso In campo Gardevoir Ormai è Iperpotenziato Mega Ultra Manca solo La mega Che magari arriva adesso Speriamo Speriamo De si Almeno Conce Sulla Stagonia 50 Perfetto Tiene Cinesi È il tuo turno Ok Io posso Anche Cercare Un po' Demonex Nella Mia panchina Per l'amor di Dio Per l'amor di Dio A me va bene Ma che cazzo Ci faccio Cioè Non c'ho Neanche Una Fottutissima E dico Fottutissima Energia doppia A mano Non posso Fa niente Veramente Non posso Inventarmi Niente Posso solo Fa sti attacchetti Pi 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 Che è giusta Un po' La situazione Ma È critica È molto Critica look cura ma e poi guarda le carte che c'è male non me le ho accorto c'è una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto no, dieci, undici, undici carte in mano io ce ne ho sei, so sei merda ma adesso vi ciò con la carta esatto gli stiamo per farlo del culo ve lo dico lo stiamo per far bestemmiare la temeretta lo stiamo per far bestemmiare se gioca se si ricorda che è vivo oh, davo gli insegno oh me sta a far partire oh su, che non c'ho tutta la serata dai, allora, perfetto luce ma nei sorrisini dai, dai dai, spara questa bestemmia vai spara il tuo bestemmione spara, spara spara il tuo bestemmione come ci si, come ci si trova ah, scioccato, eh tra pin del culo adesso adesso vi faccio vedere una cosa ragazzi, numero incredibile numero incredibile e niente a sto punto c'ho problemi con il mouse è l'unica spiegazione possibile allora direi che direi che direi che che cosa possiamo fare possiamo fare questo allora va bene allora purtroppo devo sacrificare un'energia per provare a fare oh, stavolta l'abbiamo preso, eh oh stavolta non ci sono cazzi oh embe 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 e io provo anche il tuo perché la fotonica ha altri 30 danni giusto per rompergli un po' i coglioni allora a sto punto la situazione di star diventa molto molto interessante molto ma molto interessante perché lui ha concentrato tutte le energie che aveva probabilmente o quasi tutte su garde mentre noi a questo punto si è vero che siamo rimasti veramente con le persone al culo perché oltre a me a Mewtwo in panchina e Mewtwo ex in campo non abbiamo molta molta alternativa ma lui intanto continua a curarsi vediamo un po' vediamo un po' più bacio vittoria ok vabbè va bene così va bene così secondo me l'abbiamo messo un po' in crisi ragazzi secondo me lui sta un po' bestemmiando adesso quindi sta un po' bestemmiando ne sono abbastanza sicuro allora io sai che direi di fare questa mossa qua e poi di fare questa mossa qua e ho ripescato la cosa ma sa che spica di merda comunque allora se non vi provo come la cosa è una carta energia base dalla tua pira degli scatti e noi ci pompiamo Megamutu allora vai con onda fotonica ancora allora lui probabilmente seguirà ancora lo stesso schema di prima quindi si curerà usirà il bacio vittoria si curerà ulteriormente e poi ci toglierà 20 a Megamutu quello che lui non sa e che probabilmente non si aspetta nemmeno è che noi al prossimo metterò in campo Megamutu esatto ragazzi perché giocheremo una carta energia ritireremo e manderemo un campo Megamutu e poi succeda quello che succede ragazzi perché tanto voglio dire anziché l'abbiamo rimesso un po' in pasta a sto tizio doveva abbassa un po' la cresta ha capito chi aveva davanti ragazzi almeno ha capito con chi sta giocando mica sono un coglione qualunque voglio dire dopo tutto ok che fa ah mi anticipa la mossa così non mi ha fatto manco spiegare l'energia perché delle cinesi non mi ricordo che ho fatto le cinesi va bene non ho capito se sta mossa è stata allora so che faccio a sto punto a questo punto intanto mi tolgo dal cazzo guard the wire 340 potrebbe bastare potrebbe e peschiamo il nostro comor allora qui abbiamo un problema non da poco ragazzi cioè abbiamo solo 19 carte è una corsa contro il tempo una fottutissima corsa contro il tempo non so siamo sempre un po' preoccupati perché vabbè tanto scuola di mostri io ho paura ah porco dici che è successo ok perfetto è così che abbiamo perso perfetto vabbè abbiamo fatto i simpatici e lui ci ha dato una versione che non dimenticheremo mai ragazzi se baggano l'energia non so se si vedrà poi nel video andiamo a fuoco adesso vabbè giusto per non avrenderci dai giusto per non avrenderci non fare la figura di caga sotto però è stato molto bravo bisogna dire la scuola di mostri comunque è una mossa fantastica va sul serio ti fai un esercito di gangar non panca molto bravo molto molto bravo che dire ah almeno 5 monete ragazzi almeno quello eh vabbè ok ragazzi abbiamo preso la sveglia abbiamo vinto da prima io mi sono divertito ho passato una mezz'oretta in vostra compagnia giocando a a uno dei miei giochi preferiti quindi che dire sono comunque soddisfatto allora ragazzi questo era un video molto molto fresh era un video più che altro per ricordarvi il vero appuntamento di giovedì mi raccomando ci tengo tantissimo ragazzi quindi iscrivetevi al canale dopo aver visto questo video e seguite seguite giovedì ragazzi perché veramente ragazzi su youtube pochissimi pochissimi grandi youtuber fanno questa cosa ed è una cosa che io onestamente non capisco però ognuno è libero di fare quello che vuole io del mio piccolo siamo una manciata di scritti ragazzi quindi è come se stessimo giocando in famiglia per dirci sono molto contento di portare qualcosa vi porterò comunque qualche codice non ve ne porterò 2000 ma qualcosa ve li porterò e sarò molto molto contento di portarveli detto questo ragazzi io vi saluto ci vediamo ad un prossimo video ci vediamo comunque giovedì per questo grande appuntamento iscrivetevi al canale ragazzi seguitemi su instagram seguitemi su facebook seguitemi su twitter seguitemi sotto casa no sotto casa no non mi seguite e noi ci vediamo alla prossima hello guys iscrivetevi al canale